Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video vi ricordo di lasciare subito un mi piace e iscrivetevi al canale per partecipare all'estrazione e ai regali mi raccomando vi ricordo di supportarmi al negozio oggetti con il mio codice creatore in basso a destra andatela a inserire dopo due settimane mi raccomando è molto importante grazie a tutti quelli che lo faranno mandatemi un video una foto su instagram qualsiasi oggetto comprate basta che inserite il codice creatore e fate una foto un video e vi riposterò nelle storie di instagram e di youtube ecco qua il negozio oggetti di oggi come potete vedere ci andiamo a comprare questo bundle perché lo paghiamo solo 500 vbucks backpack molto carino deltaplano veramente bellissimo il piccone l'ho vinto nella smash cup in asia svolazzo che l'ho comprato nella season 2 questo pacchetto 500 vbucks veramente ottimo acquisto vamos la nostra bella skin sir bastoncino backpack deposito di dolci e il deltaplano beer force 1 quindi oggi andremo a aprire qualche altra cosetta noi ragazzi ci vediamo in live più tardi alle 4 e mezza a tra pochissimo in live bella ragazzi ciao 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 Grazie a tutti